Ben ritrovati al nostro consueto settimanale di approfondimento al Pianeta Oggi Reporter. Dunque nessuno di noi vuole una guerra atomica, né noi né voi che ci state seguendo, ma nessun altro popolo al mondo, parliamoci chiaro. Ora c'è da chiedersi dunque come mai al potere vengono messi certi personaggi come ad esempio Trump, che mai come oggi si sente parlare di attacchi, eventuali attacchi atomici, ad esempio distruggeremo la Corea del Nord e così via. Nemmeno al tempo della guerra nel Golfo, che sicuramente vi ricorderete. Dunque c'è da chiedersi allora, ma esiste per caso qualche regia occulta a livello mondiale che decide le sorti del mondo? Della situazione scottante, a dir poco, a livello internazionale, ne abbiamo parlato a Trieste in occasione di un convegno molto importante, dove relatore c'era Giulietto Chiesa, noto giornalista, è stato anche europarlamentare, attualmente presidente di Pandora TV All News di Roma. Il sottoscritto lo ha intervistato per una lunga intervista, noi naturalmente vi faremo vedere una prima parte intanto. In questo convegno c'erano anche i ragazzi di Our Voice, che li abbiamo già presentati qui in questo programma, questi ragazzi che rappresentano l'arte contro la mafia. Quindi si è dato un piccolo spazio anche a questo argomento. Il sottoscritto ha raggiunto anche loro, quindi possono partire subito tutti i nostri servizi da Trieste. Noi ci sentiamo, ci vediamo al termine. Giulietto Chiesa, una situazione internazionale sempre più esplosiva. Cosa sta succedendo in sintesi? Sta succedendo che ogni giorno vediamo che gli Stati Uniti fanno un passo verso la guerra esplicita. Da un lato il presidente degli Stati Uniti chiama le sue forze armate alla piena mobilitazione. Cosa significa? Non è chiaro perché non è stato provocado a nessuno. Poi c'è la questione della Corea del Nord che incombe, letteralmente incombe, perché tutto quello che sta accadendo dice che gli americani si stanno preparando a un colpo militare, ovviamente atomico, ma significa che quando il presidente degli Stati Uniti va all'Assemblea Generale dell'ONU e pronuncia di fronte a tutti i popoli del mondo che lui è pronto a liquidare un intero paese, ci sta annunciando che sono pronti a uccidere 20 milioni di persone. Io ritengo che siamo a dei livelli ormai di follia, non saprei definire diversamente, che sono di altissima pericolosità. E aggiungo, bisogna aggiungerla, perché se l'America va in guerra, noi anche andiamo in guerra. Non è che qualcuno pensa che l'America andrà in guerra e noi restiamo indenni. Innanzitutto se si tratta di una guerra nucleare è impossibile che noi restiamo indenni, è impossibile, proprio impossibile. Noi saremo raggiunti dalle radiazioni delle bombe atomiche, quindi se qualcuno pensa di essere strano si sbaglia. E l'altra cosa importante è che noi siamo alleati degli Stati Uniti, noi siamo nella Nato, siamo dentro un'alleanza atlantica che ci vincola all'intervento. E quindi una delle questioni che credo dovrebbe essere presente a tutti è che l'Italia deve proclamare la sua neutralità. Noi non dobbiamo entrare in guerra, noi non vogliamo entrare in guerra. Io sono sicuro che tutti quelli che ci guardano non vogliono entrare in nessuna guerra. E quindi bisogna che i nostri governanti si sveglino e almeno riconoscano che noi dobbiamo liberarci delle 60 bombe atomiche che sono sul nostro territorio illegalmente. Perché l'Italia ha firmato il trattato di non proliferazione nucleare che le vieta di tenere sul suo territorio armi nucleari. Noi ne abbiamo 60 che potrebbero distruggere in un colpo solo tutta l'Italia. Nel convegno di questa sera si parla di fake news o anche bufale, ma sono tutte fake news? Il mainstream è pieno, il mainstream vuol dire tutto quello che vediamo sulle televisioni nazionali e leggiamo sui grandi giornali sono in gran parte fake news. Non ci raccontano la verità, tutto ciò che accade ce lo dicono e ce lo raccontano in maniera distorta o edulcorata, come dire, resa più gradevole, oppure semplicemente lo nascondono sotto un bel telo nero dove non si vede più niente. Il modo più semplice per raccontare bugie è non parlare delle cose. Per esempio questa questione della guerra ce la raccontano tutti i giorni ma come se non ci riguardasse, come se noi fossimo al cinema a guardare uno spettacolo. Ma noi siamo in guerra, io ricordo a tutti che i nostri soldati sono in Afghanistan, ricordo a tutti che noi abbiamo bombardato e distrutto un paese come la Libia, altro che migrazioni, noi abbiamo creato le migrazioni, c'è la guerra in Siria che continua, noi l'abbiamo creata. Quindi è un modo per raccontarci bugie, cioè non ci dicono quello che sta accadendo e questo è una... non solo ci defraudano della verità e della possibilità di capire, ma ci defraudano della nostra democrazia. Noi abbiamo bisogno di sapere perché solo sapendo possiamo dire se siamo d'accordo o non siamo d'accordo. Questo è fondamentale. Al convegno con Giulietto Chiesa abbiamo anche gli hour voice. Ecco, vogliamo ricordare chi sono gli hour voice. Allora sentiamo innanzitutto, qui vedo Agnese. Sì, allora, grazie. Allora, hour voice è un movimento culturale internazionale, è nato da poco qui in Friuli, inizialmente è nato nelle Marche, si estende anche nel Sud America, infatti in zone come le Paraguay e l'Argentina. Hour voice... Quindi internazionale? Sì, è internazionale. Hour voice, l'obiettivo di hour voice è quello di sensibilizzare i giovani e lo vuole fare tramite uno strumento potente che per noi è l'arte. Infatti non per niente, ora come ora, stiamo lavorando per fare degli spettacoli, spettacoli che trattano temi sociali, che spesso e molto volentieri vengono evitati. E il nostro obiettivo è quello di puntare principalmente ai giovani, sperando che vengano appoggiati soprattutto dagli adulti, che sono ai giorni d'oggi come i giovani indifferenti e non fanno niente. Ecco, allora sentiamo anche Beatrice, i giovani come vedono questo vostro, diciamo così, movimento, questo gruppo che si avvicina a legalità, che vuol promuovere la legalità? Ecco, i tuoi, diciamo, amici come reagiscono di fronte a questo bellissimo esempio che voi state dando? Allora, i giovani hanno l'animo rivoluzionario, lo sanno tutti, solo che la società non dà loro la possibilità di fare qualcosa, non gli dà nessuna speranza, non gli dà nessuna iniziativa, quindi sono persi e finiscono per trovare soluzioni che non sono soluzioni, come la droga, come l'alcol e modi per non guardare quello che succede. Quello che facciamo noi invece è fargli vedere le problematiche, dirgli che queste problematiche ci sono e sono da combattere per un futuro migliore. E i giovani sono entusiasti perché finalmente qualcuno gli dice cosa si può fare, gli dà delle speranze, gli dà un motivo per continuare a combattere e questo è davvero importante. Ecco, interessante sarebbe anche sentire adesso cosa ne pensano ad esempio i genitori, no? L'altra volta c'era Mara a testa secca che l'abbiamo presa così di sorpresa, tu ricorderai benissimo, no? Certo, certo, sì, è importante, i genitori sono un forte sostegno e guida per tutti i ragazzi. Adesso prendiamo di sorpresa tua mamma che è qui alla mia sinistra, lei non se l'aspettava ma io sono così, capito? Questa è la televisione che è fatta così. Allora abbiamo infatti qui, dopo salutiamo anche Agnese, abbiamo dunque Sabrina, allora la mamma di Beatrice è con genitore, cosa pensa che i figli si avvicinano a queste tematiche della legalità? Ma come genitore sono molto contenta, sono entusiasta del lavoro che stanno portando avanti i ragazzi, li appoggio in tutto e soprattutto spero e credo profondamente in questo progetto come loro e farò il possibile per sostenerli. Vedo come loro che i giovani d'oggi sono, come dire, persi e hanno bisogno di un sostegno, hanno bisogno di motivazioni forti e credo che Beatrice e Agnese, ma tutto il gruppo Our Voice, Marche, Argentina, Paraguay, sapranno dare le risposte per questi giovani. Ci credo anch'io. Un ottimo esempio, non ci dubbi alcuno. Grazie a Sabrina e buon proseguimento con la conferenza. Grazie e buonasera a tutti. Bene, riprendiamo da studio. Ringrazio Giulietto Chiesa per queste spiegazioni. Abbiamo ascoltato una prima parte di questa lunga intervista, altresì un ringraziamento anche agli Our Voice, alla mamma di Beatrice, la signora Sabrina. Abbiamo così voluto ascoltare anche l'opinione di un genitore. Dunque, noi ci sentiamo e ci vediamo la prossima settimana, sempre agli stessi orari. Grazie per averci seguito. A presto. Grazie per aver guardato il video.